Ciao ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra routine quindi abbiamo visto nei video precedenti i singoli passi che compongono questa routine e come anche improvvisare e ballare i passi al di fuori di questa coreografia ora vediamo l'intera coreografia con i conteggi il pezzo che abbiamo utilizzato è questo, Big Talk nei prossimi video vi manderemo la coreografia ballata, fronte e retro ora la faccio tutta solo retro così la potete seguire assieme a me parte A si ripete la parte A parte B con la destra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parte musicale di Charleston 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi gira a sinistra 5, 6, 7, 8 mi gira a destra 5, 6, 7, 8 torno al centro break con il double kick 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, kick, touch, drive come break lo rifacciamo con il touch step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, break e l'ultima volta con il double kick double kick appoggio double kick appoggio 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parte B ma partendo con la sinistra quindi speculari rispetto a prima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pivot con la sinistra mi giro cross kick 5, 6, 7, 8 parte A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 knee slap knee slap keep touch apro con la sinistra knee slap knee slap knee slap keep touch apro knee slap 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 knee slap